Sottotitoli è paura del buio, per questo ogni notte ho in camera tua, mi rascondo sui paletti dell'aspetto, mi sospetto e non c'è per controllare che ci sia nessuno da lui, che vede di quello che fa, se poi mi vado a giungire sotto al letto, non c'è il cese perché è realtà la paura del buio, oh Dio! Ho saputo dove sei partito, avrei un posto contrario! Mi sono piato, ma poi... Mi smetto di poter provare, mi sembra proprio un appartamento, mi smetto di protestare e mi addormento... Parla un po' di questo, della sicurezza. Un po' in difficoltà perché noi siamo abituati a parlare di cose un po' più frivole, trovarsi in un contesto... della nostra natura, ovvero la pazzia o la deformità fisica. Le tragedie di Esco e di Esco e di Esco e di Teatro, proprio con l'orrore delle storie che venivano raccontate. Proprio con l'orrore delle storie che venivano raccontate. Molto banalmente. E allora... Avanti! Morettemi! Nascosta dalla... Qualche male davvero si può dire in molti modi. Allora proviamo a farlo dire ad un romanzo. Oppure gli incidenti aerei e automobili... ... 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